Ci siamo resi conto che la produzione cinematografica di quest'anno, almeno a livello italiano, è numericamente aumentata. Il criterio principale che ci guida è sempre quello della qualità. Abbiamo sempre cercato di valorizzare quei film che, a nostro avviso, chiaramente, fossero i più meritevoli di essere visti durante il nostro festival e il secondo criterio che ci ha guidato è stato quello anche di cercare i film magari un po' più nascosti del panorama italiano, quelli che nella città di Mantova sono arrivati per poco o non sono arrivati affatto. Questo perché da sempre cerchiamo di proporre al nostro pubblico delle opere anche nascoste, più difficili da recuperare. Ci piace intendere il festival di cinema come una festa e come un'occasione di esplorazione, di ricerca, anche per gli spettatori. Abbiamo incontrato parecchi film che mettono insieme magari linguaggi diversi, mutuati per esempio dal documentario, e che cercano di stimolare la curiosità del pubblico. Ci sembra che ci sia una vivacità nel cinema italiano più giovane che va valorizzata. Sicuramente per quest'anno la sezione a cui siamo più affezionati probabilmente... Dico la retrospettiva perché abbiamo voluto omaggiare Luciano Salce. Abbiamo scelto Salce perché in un anno di numerosi anniversari e di centenari, Pasolini è il primo che ci viene in mente, ma pure Tognazzi così come Gasman per esempio, abbiamo voluto premiare, tributare uno degli autori forse più nascosti del cinema italiano oggi, ma tra i più prolifici. Fantozzi lo conosciamo tutti, ma ci sono stati tanti altri film che Salce ha realizzato, sempre con una sagaccia, una salaccia e un'ironia spesso crudele, con cui è riuscito a mettere alla berlina tanti vizi e poche virtù dell'Italia di quegli anni, che era un'Italia che cercava di piacersi, che prima ancora di piacere, tra virgolette, era un'Italia che veniva dalla guerra, dal boom economico e era convinta di essere migliorata. Salce non ci credeva tantissimo, nei suoi film l'ha raccontato e rimangono molto attuali.